Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie di essere qui oggi, grazie di aver voluto partecipare in persona. Abbiamo voluto fare questo evento in persona, per l'appunto. Molti ci hanno chiesto se si poteva fare via Zoom. Abbiamo fatto una scelta diversa perché crediamo nella necessità di ritrovarci, anche perché l'obiettivo di questi momenti è esattamente quello di creare anche relazioni. Quindi un grazie particolare per essere qui di lunedì mattina. D'altronde la nostra ospite è talmente importante per tutte e tutti noi che ci fa solo piacere. Io lascerei subito, il mio compito è quello appunto di dettare i tempi, non è proprio il compito più simpatico, però sarà molto rigorosa in questo senso. Passo la parola subito al Vice Sindaco Sanna per un saluto istituzionale per poi iniziare la nostra conversazione. Grazie. Grazie a voi, io non voglio rubare tempo. Benvenuti a tutti in questa aula che è l'aula più importante per noi, per la città metropolitana di Roma Capitale, perché è l'aula dove si celebra il Consiglio, che è l'organo più alto della vita democratica di questo ente, che contiene in sé la Capitale d'Italia e 120 comuni che intorno alla Capitale ogni giorno compongono quello che una volta veniva chiamato territorio provinciale. Un saluto naturalmente a Lubbi, che ospitiamo per la prima volta e alla quale diciamo apertamente che questa è anche la vostra casa. Ogni volta che vorrete, ogni volta che ne avrete bisogno, ogni volta che lo riterrete opportuno, qui troverete le porte aperte perché nei nostri confronti da parte vostra c'è amicizia e da parte nostra nei vostri confronti c'è amicizia ugualmente, più la stima, più l'apprezzamento per quello che fate. Non posso nascondere una certa emozione, perché conosco e seguo quando nasciva da sempre, da quando ho iniziato a fare politica. Quindi credo che il Sindaco Gualtieri, di cui vi porto il saluto e vi porto anche le scuse, perché purtroppo ha una delle agende più fitte, più folte della vita democratica d'Europa, abbia fatto a me il più grande regalo quest'oggi, perché la possibilità di essere qui è davvero una emozione per la quale sono grato al Sindaco Gualtieri e a tutti voi. Io per la mia storia personale sono particolarmente legato al messaggio di cui abbiamo parlato prima. Io sono effettivamente uno degli ultimi figli della cultura contadina di questo nostro Paese, una cultura estremamente minoritaria, oramai estremamente in via d'estinzione, una particolare forma di solitudine nella quale io da anni riesco a sopravvivere perché tanti espedienti, la nostra cultura millenaria di italiani fornisce a chi vuole sopravvivere comunque mantenendo dentro di sé la propria esperienza collettiva di famiglia, di cultura, di semplice tradizione per alcuni versi. Mi è capitata in sorte, come a volte riferendoci a Dante, diciamo, parliamo della legge del contrapasso, una sorta di legge del contrapasso, perché io sono diventato Sindaco di Colleferro che come molti sapranno è una delle città più industriali del sud della provincia di Roma. Ora probabilmente il destino l'ha voluto perché effettivamente a Colleferro non c'era mai stato un Sindaco che non aveva lavorato in fabbrica, che non aveva esperienza di fabbrica e che anzi veniva da quella fetta di società estremamente minoritaria che quasi quasi in città da me veniva storicamente appena tollerata come si possono tollerare i contadini in una città industriale. Però ora sono sette anni che faccio il Sindaco di Colleferro, ora faccio il Vice Sindaco metropolitano e evidentemente questa forma di tolleranza ha portato buoni frutti. Quindi il messaggio che una volta ascoltavamo in pochi e che invece vedo per fortuna essere apprezzato e giudicato oggi pietra miliare da milioni e milioni di persone è un messaggio che probabilmente vale la pena ascoltare anche stamane e al quale vale la pena dedicare la propria esistenza, la propria esistenza pubblica, perché è un messaggio di salvezza, è un messaggio di resistenza, è un messaggio di legami forti, di radici profonde, grazie alle quali probabilmente l'uomo comprenderà quanto sforzo deve fare per mettere da parte le cattive abitudini che ha sviluppato soprattutto nel secolo scorso e quanto sia importante invece adottarne delle altre fondamentali salvifiche per alcuni versi che potranno avere effetti completamente diversi rispetto a quelli che abbiamo dinanzi agli occhi. Ringrazio infine Ugo Papi, il consigliere diplomatico del sindaco Gualtieri, perché da sempre lavora incessantemente affinché iniziative come questa possano essere appannaggio anche della città metropolitana e degli oltre 4 milioni di cittadini che essa rappresenta. Anche a lui va un saluto di affetto, va un saluto di stima, ma come a tutti voi io dico in conclusione davvero, va un saluto di speranza. Speranza che iniziative come questa possano ripetersi, speranza che questo messaggio importante, fondamentale, chiaro, limpido, possa essere indirizzato a un sempre maggior numero di persone e che un sempre maggior numero di persone abbia la forza e la volontà di recepirlo, di farlo proprio e di attualizzarlo con i gesti, con le azioni, oltre che con le parole. Grazie. Grazie Vice Sindaco, grazie per averci aperto le porte di questa casa e per averci ricordato che siamo benvenuti e benvenute in questa casa che è sempre aperta. Pensiamo che le autorità locali giochino un ruolo estremamente importante per quanto riguarda i sistemi alimentari. Pensiamo ad esempio alle mense scolastiche, negli ospedali, ovunque. Io voglio pensare anche nelle carceri. L'importanza che il cibo giusto, eco, sano, non sia solamente accessibile a determinate fasce di popolazione per noi è estremamente importante. Non possiamo aumentare il divario non solo per quanto riguarda il cibo, ma conseguentemente anche per quanto riguarda la salute delle persone, facendo sì che solamente una fascia elitaria possa accedere a questo genere di alimentazione, che poi dovrebbe essere l'alimentazione di tutti i giorni, di tutte e di tutti. Ecco perché oggi abbiamo fatto la scelta di portare i prodotti che trovate anche nelle vostre buste. Il significato è quello di avvicinare perché il prodotto, di avvicinare il prodotto perché dietro quel prodotto c'è un progetto, perché dietro quel progetto c'è un'idea, una visione di mondo. E quindi portarsi a casa quel miele, quella passata, significa portarsi a casa quell'esperienza, significa portare a casa il lavoro dignitoso delle persone che hanno lavorato i campi, significa portare a casa un pomodoro che ha rigenerato il terreno. E la ragione per cui noi oggi siamo qui è anche quella di sottolineare quanto l'agricoltura rigenerativa biologica sia essenziale nella lotta ai cambiamenti climatici. Si parla molto di transizione energetica, si parla molto poco di trasformazione ecologica. L'agricoltura industriale ammonta a quasi, sono stime ONU, a quasi un terzo delle emissioni climaalterante. E non se ne parla. Perché l'agricoltura industriale è fortemente basata sui combustibili fossili. E l'agricoltura rigenerativa ha la capacità non solo di rigenerare il suolo, ma anche quella di assorbire emissioni. Per cui porre l'accento sulla terra significa cambiare la visione, il modo di gestire la crisi climatica. Ecco perché abbiamo voluto questo momento di condivisione oggi. Quindi grazie ancora al Vice Sindaco, grazie a Ugo Papi per essere sempre sensibile e vicino. Io passerei la parola, adesso lascerei dieci minuti ai nostri relatori, prima di ascoltare la dottoressa Shiva. Dieci minuti a testa. Nicoletta Dentico. Nicoletta, se posso due parole, perché non voglio occupare il tempo. Allora, Nicoletta è attualmente direttrice del programma salute globale per Society for International Development, che è un'organizzazione che vi invito a seguire, perché fa dei policy paper estremamente interessanti. Nicoletta è già stata anche direttrice di Medici Senza Frontiere, giornalista, scrittrice, con dei libri estremamente interessanti. Se posso aggiungere due parole personali. Nicoletta è la persona che mi insegna e ci insegna a fare attivismo e per quanto mi riguarda mi dà sempre l'opportunità di vedere quello che altrimenti non riuscirei a vedere da sola. Diciamo la verità. Guardare, apporgere lo sguardo un po' più avanti. E quindi sono molto felice che sia qui con noi. Grazie, Nicoletta. Buongiorno, grazie Silvia. Grazie per questa introduzione troppo generosa, credo. Io sono molto felice e ringrazio in maniera non formale gli organizzatori di questo evento per avermi coinvolta. Non solo perché mi sento profondamente amica delle persone che sono intorno a questo tavolo, ma sono assolutamente... Mi sento amica, compagna di viaggio e molto riconoscente, molto grata a Vandana Shiva, che è una, credo, delle pochissime persone, anzi forse è l'unica persona che in questi tempi bui riesce a rappresentare per me una lotta, diciamo una battaglia gioiosa, anche spirituale, profondamente energetica e femminista per cambiare questo ordine delle cose. e quindi attingo alla sua presenza e alla relazione con lei in maniera totalmente egoistica per, come dire, da europea riuscire a solcare queste acque così difficili del tempo presente in Europa e anche evidentemente in tutto il mondo. Noi siamo reduci, no? Si sta molto discutendo in questi giorni di Stoccolma più 50, cioè di tutto un cammino che cominciò 50 anni fa che segna sicuramente una nuova consapevolezza, ma vorrei dirlo, e non per, come dire, guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma anche per quanti decenni di tempo abbiamo perso, senza fare assolutamente niente. E dobbiamo, lo dico subito, così mi colloco, che non mi trovo assolutamente fuori posto in questa retorica degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, perché ce lo dobbiamo dire con molta chiarezza, siamo ben oltre la sostenibilità, e questo circo barnum autocompiacente, anche un po' anodino, di una semantica della sostenibilità, quando invece siamo già in un tempo successivo, la dichiaro subito assolutamente non sufficiente, e non capace di interpretare i segni dei tempi e i segni che il clima, che appunto lo dicevamo ieri, non è in cambiamento, è già cambiato evidentemente, è il peggioramento del clima, perché il clima è già cambiato. Insomma, credo che questo sia un luogo dove ce lo possiamo dire, che l'azione che dobbiamo svolgere è urgente, e non ci sono scuse, e non ci sono retoriche, perché io che mi interfaccio per motivi di salute con la comunità internazionale, ma anche con la comunità nazionale, vorrei dire anche quella locale, trovo che francamente la politica non sta dando i segni giusti, non ha capito niente di questa pandemia, e evidentemente continua a fare esattamente quello che faceva prima, non solo, ma sta definendo politiche per il futuro, che sono esattamente, come dire, la fretta di tornare quanto più prima possibile a quello che si faceva prima. Laddove si concepisce la digitalizzazione come l'unica chiave, no, per la costruzione degli scenari futuri, e noi sappiamo che, invece, forse, non solo per il cibo, dobbiamo tornare alle pratiche sapienziali della gestione della terra, dell'armonia con la terra, dell'interessere con la terra, con gli altri esseri viventi. Non c'è questa cosa nella cultura politica di questo Paese, non c'è nella cultura politica europea, non c'è neppure nella cultura politica internazionale, dove ancora oggi, proprio grazie al paradigma fissato dagli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, continuiamo a coinvolgere il settore privato e le multinazionali nella definizione degli obiettivi futuri di un mondo che quelle multinazionali stanno largamente partecipando a distruggere. Quindi, come ci diciamo, ormai il conflitto di interessi non esiste più, perché l'hanno sdoganato tutti, così come non esiste più neanche la funzione pubblica, perché il pubblico, ha servito a tutti i livelli e ha servito agli interessi privati. E l'Italia non fa eccezione. Se noi abbiamo come abbiamo... No, ma non è... No, ma noi dobbiamo dire queste cose. Se noi abbiamo l'ENI, che da noi fa il piano energetico, abbiamo un problema enorme di conflitto di interessi. E non si risolve col fatto che l'ENI è a partecipazione statale, perché lo Stato ha completamente delegato al privato la funzione. Se noi abbiamo le aziende italiane, Barilla e Ferrero, che fanno le politiche del cibo italiano e internazionale, abbiamo un problema. Ma questo è quello che assistiamo. Se noi a livello globale abbiamo la filantropia strategica, la Bill & Melinda Gates Foundation, che definisce le politiche della salute, le politiche della rivoluzione verde in Africa, dove non era ancora arrivata la rivoluzione verde, ma ce l'hanno portata dal 2008 a oggi, la Rockefeller Foundation e la Gates Foundation, portandosi dietro tutto il comparto delle loro multinazionali. E questo con la benedizione delle Nazioni Unite abbiamo un enorme problema. Quindi, sì, bisogna partire dalla Terra, bisogna tornare alla Terra, perché noi siamo la Terra, siamo quella Terra, e soltanto nella Terra possiamo ritrovare, come dire, i germi della speranza di cui parlava Ugo Papi per il futuro. Perché la Terra è solida, la Terra è molto solida, la Terra ha una robustezza, continua a generare, nonostante tutta la devastazione che continuiamo a produrle, è creativa, perché ci sta continuamente rivelando la grande ingenuity, la grande capacità di produzione, di creazione, di creature che non abbiamo ancora scoperto. Degli oceani conosciamo a malapena, scarto, neanche il 20%, scopriamo creature nuove. Quindi non abbiamo ancora compreso tutta la grande creatività di questa Terra, e la Terra è paziente, perché dopo un incendio ritornano le foglie, dopo, no? Nonostante tutto, la Terra, come dire, ci vorrebbe anche dare un'altra chance se soltanto ci mettessimo in sintonia con questa Terra, sarebbe disposta ad un patto con questa umanità che è lo zero virgola qualcosa della presenza su questo pianeta, ma che invece in termini di devastazione rappresenta un agente oggi di pericolo assoluto. Noi siamo il pericolo assoluto. E quindi parlare dell'agricoltura, parlare del cibo, come parlare della salute, vuol dire parlare dai presupposti fondamentali per ristabilire questo rapporto non solo con la Terra, ma anche con noi stessi, perché evidentemente, come dire, noi siamo i primi a soffrire di un cibo che ormai è industrializzato, è ormai finto, di un cibo che non nutre, ma che ci rende assolutamente malati, obesi, sottoposti a malattie cardiovascolari. Siamo noi i primi che soffriamo per la medicalizzazione del cibo, sempre di più, no? Ormai, appunto, l'idea che questo cibo sintetico sia la soluzione, quello che costa poco, no? E invece si fa costare tanto, anche nei paesi del sud del mondo, no? Dove ormai facciamo il dumping di tutte le schifezze che da noi non si possono quasi più produrre, o sono ormai, perché hanno troppi coloranti, e li mandiamo tutti nel sud del mondo, dove ormai costa di più mangiare una banana che mangiare, appunto, le schifezze che gli mandiamo noi, spesso anche con la cooperazione internazionale. La digitalizzazione, perché dopo tre anni di pandemia, dovete sapere che il discorso sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite è tutto fatto e definito dai signori di Davos, ok? I sistemi alimentari del futuro prevedono l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione del cibo, quindi una produzione agricola senza i contadini, ok? Laddove poi invece abbiamo un paese come il nostro, che, lo dicono sempre le Nazioni Unite, ha costruito la propria competizione, la propria posizione agricola sulla schiavitù, sullo sfruttamento, lo sfruttamento delle persone non più lontano, meno di un'ora da Roma, Latina, tutto il comparto della produzione agricola, di fondi, tutta quella che parte, uno dei luoghi di eccellenza, che poggia sul sfruttamento di persone che vengono dall'India, dallo Sri Lanka, ok? Quindi abbiamo un problema di cui non si parla, la politica non parla di queste cose e neanche la stampa parla di queste cose, ci chiediamo perché, no? Perché, e chiudo, ormai abbiamo l'evidenza assolutamente confermata da decenni al G8 di Genova, a cui per motivi anagrafici partecipavo grazie a Stoccolma, ecco, io un po' più recente, Genova, a Genova avevamo esattamente la stessa agenda che potremmo avere oggi, sono passati vent'anni e non è che le cose sono state ferme lì, no? Sono largamente peggiorate nello solco della stessa visione politica, che è una visione necrofila, che porta alla morte e noi invece in questa giornata dobbiamo rilanciare la vita e dobbiamo farlo e qui chiudo davvero con un punto di vista guardate, importante per me che ho bazzicato abbastanza gli africani e che mi hanno insegnato questo, che non abbiamo più niente da perdere, neanche nell'Occidente non abbiamo più niente da perdere, non abbiamo più niente da perdere e quindi abbiamo la forza della nostra debolezza come direbbe Dietrich Bonhoeffer proprio nel momento in cui non abbiamo più niente da perdere possiamo mettere in campo azioni che non sono le solite del dialogo con una politica che non gliele potrebbe importare di meno in questo momento di dialogare con la società civile a nessun livello e proprio nel tempo della partecipazione perché con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile c'è tutta questa idea dello stakeholderism è un teatro è una recita è quella che Gentile chiama la democrazia recitativa o che potremmo chiamare a livello UN la diplomazia recitativa bene siccome non abbiamo è tutta una finta usciamo da questo teatro mettiamoci a fare usciamo dall'ipocrisia del teatro e usciamo nelle piazze usciamo nei territori usciamo a moltiplicare le battaglie locali che tante persone stanno facendo in Italia nel mondo questo dice Donatella di Cesare è il tempo della rivolta bene sì questo dobbiamo costruirlo proprio come un tempo di una rivolta gioiosa di una rivolta per la vita non una rivolta armata come quelle che vediamo e dobbiamo riprenderci in mano le sorti di questo pianeta a partire dalle comunità a partire dalle battaglie locali perché è sui luoghi che si avverte il cambiamento e soltanto se dal basso riusciremo a costruire una pressione verso l'altro potremmo sgominare questo multistakeholderismo feudale che fa sì che gli oligarchi dell'Occidente e dell'Oriente abbiano in mano appunto le leve della storia di questo tempo della politica di tutte le nazioni del mondo quindi dobbiamo fare veramente uno sforzo enorme di vitalità nella democrazia nella libertà e anche appunto nel coraggio delle scelte perché ripeto questo è un tempo in cui bisogna proprio scegliere in maniera un po' partigiana da che parte stare e la partigianeria è se vuoi continuare a stare dalla parte della politica degli interessi del profitto e della morte o invece se vuoi stare dalla parte dell'interesse del bene comune e della vita grazie 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 Nicoletta Dentico ve l'avevo detto leggete i suoi libri perché è veramente sono libri meravigliosi hai toccato tanto hai anche parlato hai detto la parola interessere che è una parola che a noi l'unione buddista sta molto cara essendo di derivazione insomma del grande maestro Thich Nhat Han che so che tu ami moltissimo peraltro e che ci fa comprendere quel profondamente significato di appunto ecologia profonda e di interdipendenza la ragione per cui noi oggi siamo qui è perché riteniamo di non essere separati non c'è una separazione tra uomo e natura l'uomo l'essere umano è natura non c'è una separazione e questo è il passaggio secondo me fondamentale dall'antropocentrismo all'ecocentrismo che è proprio una chiave di lettura che noi come unione buddista cerchiamo di offrire nel dibattito hai parlato anche di false soluzioni di cibo sintetico poi la nostra intenzione è quella di creare un manifesto per la vita no Nicoletta e lo faremo insieme peraltro e mi piace molto questa tua idea di rilanciare la vita in una chiave di rivolta gioiosa perché perché questo ci caratterizza moltissimo cioè questa idea di un attivismo gioioso e sei tu che mi hai poi collegato a Rosa Vaglio che sta dall'altra parte del tavolo e che ringrazio di essere qui perché parlando d'altra faccio questo collegamento no? da una parte all'altra perché poi tra l'altro sei tu che ci hai connesso e hai parlato per l'appunto di una produzione agricola senza i contadini e il problema qui non è solamente della qualità del cibo lo è sicuramente ma è proprio anche il genocidio culturale delle tradizioni contadine dei saperi dei saperi indigeni e della dignità del lavoro io personalmente un'agricoltura senza contadini non riesco neppure a concepirla questo cibo anche magari con l'idea di limitare le emissioni le emissioni andiamo a costruire la carne per esempio no? però poi possiamo dirci magari vegetariani e vegani e essere a posto con la coscienza non è questo ben venga il vegetarianismo e il veganismo ma intendo dire attenzione alle false soluzioni perché c'è anche questo pericolo sicuramente un pericolo che non corriamo con l'esperienza di diritti a sud di cui è un'associazione di cui Rosa Baglio è presidente e rappresenta anche il movimento che ha un nome meraviglioso che si chiama Sfrutta Zero e producono io quando li ho visti in realtà me li ha fatti vedere sempre Nicoletta la prima volta queste meravigliose passate che ritraggono i volti dei contadini e delle contadine che hanno lavorato il prodotto e sono rimasta affolgorata per cui chiederei a Rosa di raccontarci innanzitutto grazie di essere qui perché sei arrivata da Nardò in Puglia eccolo là ecco eccolo là Angelo grazie e quindi grazie per essere venuti da Nardò e per raccontarci la vostra esperienza sì grazie grazie innanzitutto a voi dell'Unione Italiana Buddista e a Nicoletta perché so che insomma è stata lei a parlare a voi di noi e la ringrazio tantissimo per la cura per l'affetto che ha nei nostri confronti ci siamo conosciuti qualche anno fa nella scuola di economia di banca etica in uno dei corsi appunto organizzati da banca etica sì sono venuta da Nardò quindi dal Salento in provincia di Lecce insieme al vicepresidente dell'associazione che è appunto Angelo Cleopazzo abbiamo fatto un viaggio della speranza perché comunque altro problema della nostra Italia sono i collegamenti veramente pessimi soprattutto dal sud verso qualsiasi parte d'Italia quindi però è stato un onore per noi insomma venire qui è un onore essere qui e avere l'opportunità di conoscere Vandana Shiva tutti e tutte voi quindi grazie grazie davvero Nicoletta mi ha preceduta con un intervento rovente come il caldo che fa fuori effettivamente io capisco tutta la sua rabbia perché ci hanno strappato un mondo ci stanno togliendo la vita penso che forse non ci sia stata epoca peggiore di quella che stiamo stiamo vivendo nonostante gli eventi catastrofici che comunque hanno segnato la storia dell'umanità ma credo che quest'era dell'antropocene quella in cui è l'uomo che agisce su tutto purtroppo è vittima della distruzione dell'uomo si parlava di curare la terra effettivamente la terra inteso con il suo doppio significato sia di pianeta il pianeta che ci accoglie ma anche veramente di terra da coltivare terra da curare terra in cui piantare delle piante che poi ci daranno dei frutti che noi mangeremo può sembrare qualcosa di retorico di facile di semplice ma vi posso assicurare che non lo è minimamente noi diciamo tutte le persone che fanno parte sia dell'associazione di cui io sono presidente appunto diritti a sud che è una delle due realtà che porta avanti il progetto sfrutta zero e non siamo contadini e non siamo contadine e questo lo dico con una forma di rispetto nei confronti dei contadini perché hanno un insieme di saperi di competenze enorme fare il contadino molto spesso almeno dal posto da cui vengo io quindi il Salento provincia di Lecce l'essere contadino essere nipoti di contadino è sempre stato visto come un qualcosa di cui vergognarsi quindi da cui emanciparsi e per questo che poi i nostri genitori hanno tutti figli di contadini ci hanno fatto andare via ci hanno fatto studiare fuori siamo andati a Roma a Milano siamo andati all'estero ma poi siamo tornati siamo tornati tutti con quella terra che avevamo lasciato che comunque abbiamo sempre avuto nel cuore che è appunto il Salento siamo tornati in un momento anche quello di crisi quindi sto parlando insomma del primo decennio del 2000 senza lavoro dopo aver studiato con tante competenze ma non riuscivamo a trovare la strada la strada giusta da imboccare ci sentivamo anche profondamente frustrati io sono andata negli anni 80 quindi tutta la mia generazione vi posso assicurare quella dell'essere precario insomma se l'è vista brutta per tanti aspetti però che abbiamo fatto non ci siamo adagiati sugli allori non abbiamo non ci siamo lamentati non siamo stati ad aspettare la manna dal cielo ma abbiamo detto ok ci sono dei problemi obiettivamente ci sono dei problemi abbiamo studiato sappiamo come va il mondo ma il mondo lo capisci non soltanto leggendolo sui libri ma soprattutto vivendolo quindi siamo tornati a casa nostra e ci siamo resi conto che c'erano dei problemi enormi e uno di questi era il fatto che ogni estate per tantissimi anni tornavano e continuavano a tornare persone dalla pelle nera africani prevalentemente provenienti dal Maghreb e dall'Africa subsahariana venivano camminavano ogni estate con un caldo bestiale su una strada assolutamente pericolosa senza mezzi non ci sono mezzi pubblici e quant'altro per andare e venire dalla città ai campi ok ma queste persone che fanno ci siamo chiesti nel lontano 2009 quando un gruppetto originario primordiale diciamo ancora prima che comunque nascesse diritti a sud che è nata nel 2014 si è interessata della vita di queste persone ha detto ma perché questi ragazzi che hanno la mia stessa età fanno questo con questo caldo che vanno a fare quindi sono voluti andare in mezzo a quei campi di olivi perché all'epoca gli olivi esistevano ma adesso vi posso assicurare che se venite nel Salento gli olivi non ci sono più altro problema drammatico del nostro del nostro tempo quindi un territorio totalmente a rischio desertificazione in cui gli alberi sono spariti a causa appunto del complesso insomma del codirò insomma di disseccamento precoce che è appunto poi conosciuto come xylella e anche lì c'è tutto un insieme di fattori e soprattutto la causa maggiore è la mancanza di cura degli alberi dei territori di tante persone che sono state non curanti perché pur avendo i terreni pur avendo gli alberi che sono stati ereditati da propri nonni e quant'altro le proprie famiglie non hanno voluto curarli quindi questa mancanza di cura unita a quintali e quintali di fitofarmaci dati perché una volta che arrivò l'agricoltura industriale intensiva per un contadino di un paese della provincia di Lecce era più facile buttare la medicina che ti fa sparire l'erba piuttosto che lavorare con la zappetta per togliere l'erba quindi sono tutte queste cose che magari a fine sono proprio elementari è una cosa semplice però i contadini di un tempo queste cose non le capivano ovviamente quella fatica che veniva dimezzata da loro è stata apprezzata ma non sapevano che per noi sarebbe stata la fine la fine quindi per ritornare appunto a quel campo di ulivi che adesso non ci sono più lì trovammo una marea di persone che vivevano in una sorta di baraccopoli in un ghetto appunto si utilizza sempre questo termine per indicare questi non luoghi che esistono soprattutto nel sud Italia adesso nella mia città Nardò non c'è più perché è stato appunto poi sgomberato nel 2016 dall'amministrazione comunale ma continuano ad esistere nella zona di Foggia famosissima pista nei pressi di Foggia e in Calabria e in Sicilia di Borgo Mezzanone questi posti sono dei luoghi in cui la dignità delle persone viene totalmente violata in cui persone che non hanno documenti quindi non hanno un'identità almeno per i nostri governi occidentali non hanno la possibilità di vivere in una casa decente hanno un lavoro che non è lavoro ma è schiavitù non hanno la possibilità di istruirsi né tantomeno di accedere alle cure mediche e vivono in una sorta veramente di luogo infernale una specie di inferno noi siamo stati quest'inverno ad Andria famosissima per la produzione di olio eccellente lo paghiamo non so 15 euro al litro e quant'altro però poi per raccogliere quelle olive quelle persone quanto vengono pagate pochissimo quanto vengono pagati per raccogliere pomodori pochissimo ecco così su questo si basa l'agricoltura non solo italiana ma mondiale sullo sfruttamento dei nuovi schiavi che sono le persone che provengono per quanto riguarda le mie regioni del sud Italia ripeto dall'Africa sub-sahariana e dal Maghreb da alcune zone balcaniche vari paesi e poi abbiamo anche qui nel Lazio molte persone indiane SIC e quant'altro sono state fatte tante denunce su questo però come diceva Nicoletta la politica è istituzionale perché mi piace appunto distinguere la politica istituzionale da quella attiva da quella dell'attivismo da quella della società civile da quella delle persone che si rimboccano le mani che se le sporcavano di terra perché si rendono conto che quella terra sta perdendo la sostanza organica allora bisogna ridargliela e allora lo fai perché magari ti sei sostudiato dei libri che sono riusciti a nutrire il tuo immaginario ideologico e politico ma lo fai anche perché hai gli occhi per vedere quello che sta accadendo intorno a te non ti chiudi in una torre d'avore facendo finta di niente ma ti metti in gioco in prima persona e consulta zero è quello che abbiamo fatto quindi avendo conosciuto la realtà di questi ragazzi che avevano l'età nostra noi ci siamo sentiti in dovere pur non avendo niente non avendo soldi non avendo ancora un'associazione non avendo i mezzi non avendo i mezzi di produzione questa cosa la sottolineo tantissimo perché comunque non abbiamo ancora dopo sette anni di produzione i mezzi di produzione perché chi ce li dovrebbe dare dovrebbe sostenere progetti come Sfrutta Zero e non soltanto Sfrutta Zero perché l'Italia è piena c'è una miriade di iniziative veramente all'avanguardia che però vengono nascoste a livello mainstream non se ne parla perché rappresentano una spina nel fianco di coloro i quali non hanno la competenza per affrontare le sfide del momento questo lo dico senza problemi perché proprio ne sono convinta e perché in sette anni di partecipazione a tavoli tecnici in prefettura incontri con le istituzioni eccetera mi sono resa conto veramente della mancanza di volontà di risolvere questo problema c'è un processo che comunque adesso insomma riprenderà probabilmente che è quello fatto il processo Sabre fatto appunto in cui erano imputati gli imprenditori chiamiamoli così che schiavizzavano le persone nei campi insomma dell'intorno la mia città che erano stati accusati di riduzione in schiavitù quindi non stiamo parlando del settecento ma stiamo parlando insomma del terzo millennio questa è una cosa che proprio fa rapida anzi fa schifo cioè proprio mi piace usare questa parola fa veramente schifo quelle persone sono esseri umani sono persone con una storia con una vita con dei sentimenti hanno una dignità che noi non sappiamo che cosa sia perché anche se tu vai a trovarli in un ghetto loro ti accolgono la porta ti fanno entrare e ti danno il meglio che ti possono offrire in quelle baracche fatiscenti fatte di plastica e lamiere quindi comunque fra noi esseri umani questa capacità di incontrarsi secondo me non deve mai mancare quell'empatia no? siamo umani che diceva la frase bellissima insomma l'espressione bellissima di Vittorio Origoni che altro grande italiano completamente dimenticato ti dà la possibilità di capire che bisogna aiutarsi vicendevolmente e quindi noi pur non avendo i mezzi per farlo abbiamo detto queste persone dobbiamo aiutarle noi abbiamo il dovere di farlo niente semplicemente lanciando un crowdfunding nel 2015 abbiamo raccolto i primi soldi per poter piantare le prime piante di pomodoro e fare una produzione indipendente ed autogestita di salsa di pomodoro totalmente di fuori dei circuiti della grande distribuzione organizzata perché noi non vendiamo per scelta nella grande distribuzione organizzata perché lo sfruttamento deriva da quelle grandi multinazionali che impongono i prezzi ai produttori che poi si rifanno su chi raccoglie i pomodori e per questo che la salsa sfrutta zero anche se insomma è stata richiesta all'interno appunto è stata richiesta da una grande catena di supermercati italiani ma non la vedrete mai perché comunque per noi è stata una scelta politica e continuiamo a dirlo ormai da tanti anni perché non ha senso insomma vendere oppure fare in modo che un prodotto che viene giudicato etico poi no sia accanto di un altro prodotto che invece è stato realizzato con lo sfruttamento delle persone e dell'ambiente cioè un'incoerenza assoluta ma noi vogliamo vendere o vogliamo recuperarlo questo mondo attraverso un prodotto lo si può fare attraverso la storia che quel prodotto racconta lo si può fare attraverso la disintermediazione lo possiamo fare tra produttori e consumatori ci possiamo incontrare dobbiamo parlare dobbiamo fare delle scelte sia di produzione che di consumo che devono essere diverse da quelle a cui il sistema capitalistico ci ha abituato quindi SfruttaZero nasce su un'idea semplicissima che è quella di non sfruttare nelle persone nella natura non usare chimica di sintesi praticare l'agricoltura organico rigenerativa curare la terra con sostanza naturale come può essere l'etame come può essere la polvere di cenere il siero di latte e quant'altro produrre da soli i prodotti che servono per nutrirla e coltivare queste piante con tanta fatica ma tanto tanto amore e allo stesso tempo fare una cosa semplicissima che pare che in Italia non si riesca a fare un contratto un contratto di lavoro con busta paga contributi e tutto insomma ciò che è connesso a quello che è il lavoro ricordiamoci sempre che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro che dire portiamo avanti questo progetto in maniera indipendente l'unica realtà bellissima che ci ha sostenuto è stata Banca Etica e la Chiesa Valdese perché abbiamo vinto un bando della Chiesa Valdese abbiamo vinto un premio internazionale insomma di Lush la casa britannica che produce prodotti naturali per quanto riguarda l'igiene della persona siamo stati selezionati fra 250 progetti in tutto il mondo abbiamo vinto nel 2017 il premio Livatino per l'impegno sociale ma queste cose le dico non per vantarci perché insomma non è importante per dire che comunque magari fuori anche dall'Italia Sfrutta Zero è stata molto apprezzata ma è proprio nella nostra terra in Puglia che invece pare che è quasi come se non esistessimo infatti abbiamo ancora difficoltà anche a trovare un terreno per tutta una serie di motivi ma nonostante questo non demordiamo e andiamo avanti e nel frattempo si è sviluppata tutta una rete locale una rete delle reti territoriali sia a Bari perché il progetto Sfrutta Zero è portato avanti anche dall'associazione solidaria che è nel Salento che è un po' in tutta Italia attraverso una rete nazionale di cui facciamo parte che si chiama Forimercato e che unisce l'attivismo politico e il sindacalismo conflittuale di strada non quello dei tesserifici alle autoproduzioni economiche che dire c'è un mondo in Italia che è fantastico è fatto di gente competente intelligente coraggiosa che sa pensare e sa agire cose molto spesso scollegate della maggior parte delle persone dei nostri tempi quindi che dire grazie 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 un po' dell'invito grazie innanzitutto grazie per il lavoro che fate quello che posso dire e che posso dire a voi è che tu dicevi non se ne parla abbastanza magari c'è più riconoscimento fuori che in Italia posso dirtelo come responsabile dell'agenda ecologia di unione buddista italiana siamo qui esattamente per questo per parlarne per raccontare di storie di trasformazione ecologica e per sostenervi quindi potete contare sicuramente su di noi su questo progetto grazie 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 davvero si diceva prima poi tu citavi proprio Rosa che sei figlia di contadini non sei sola anch'io sono figlia di contadini orgogliosamente figlia di contadini e poco prima ne parlavamo ne parlavamo anche con il vice sindaco che lui stesso è figlio di contadini e forse in passato magari questa cosa poteva essere come si diceva quasi una cosa da tenere nascosta invece ne siamo orgogliosi io penso perché non c'è un dono più grande che essere figli della terra io penso quindi passerei la parola a Davide Marino al professor Davide Marino che fa parte del gruppo di coordinamento della rete italiana delle politiche locali del cibo e anche professore associato di economia all'università del Molise nel dipartimento di bioscienza e territorio è docente del corso di scienze enogastronomiche all'università di Roma 3 dove insegna anche il made in Italy agroalimentare molte altre cose che per motivi di tempo mi costringono a passare immediatamente la parola al professor Marino grazie dieci minuti grazie grazie a voi grazie all'unione buddista italiana grazie a Navdavnia International per questo invito per me un grandissimo onore e piacere essere qui parlare davanti a Bandana Shiva che anche per me è uno dei punti di riferimento culturali più importanti stavolta uscendo da casa ho preso uno dei suoi libri che ho a casa purtroppo ho preso quello che mi aveva già autografato due anni fa quindi speravo di prenderne uno che non era autografato pazienza allora bene sono state dette già diverse cose molto importanti che nel loro insieme condivido e vorrei partire da da questa centralità che di cui stiamo parlando che è ha il cibo nella nostra nella nostra vita centralità che adesso con la crisi russo-ucraina viene fuori in maniera molto evidente per tutti l'avevamo un po' dimenticato però in realtà il cibo ha un grande ruolo nella nostra vita intanto dal punto di vista economico i contadini non è che fanno i contadini per hobby fanno i contadini per produrre vendere e quindi sono delle imprese economiche anche piccole imprese ma fanno sempre economia e noi spendiamo per nutrirci il 25% del nostro reddito qui in Italia quindi in un paese sviluppato chiaramente in altri posti del mondo questa percentuale è ancora maggiore il numero delle imprese del settore agroalimentare per esempio nella sola città metropolitana di Roma è di 45 mila comprese tutto il sistema diciamo di produzione distribuzione e somministrazione del cibo questo per dire proprio il peso che ha questo questo elemento nelle nostre economie nella nostra società si parlava prima ovviamente di tutto il problema della malnutrizione un miliardo circa di persone che soffre la fame ma due miliardi e passa di persone che soffrono per alimentazione sbagliata quindi obesità diabete malattie cardiovascolari il costo sociale non solo economico della sanità l'insicurezza alimentare che è un problema crescente non solo a livello mondiale la crisi che stiamo vivendo e ce lo dice ma anche a livello nazionale anche qui basta che usciamo da quest'aula per vederlo e poi la questione ambientale che ovviamente è stata già citata non voglio diciamo dirlo ancora ma voglio citare solamente due elementi importanti ovvero sia che la principale causa di deforestazione sul pianeta è l'agricoltura la produzione di cibo possiamo poi discutere su quale cibo come si produce eccetera ma questo diciamo lo sappiamo già ed è stato già ricordato non voglio diciamo dirlo ulteriormente e poi il discorso dello spreco alimentare sempre dal punto di vista ambientale quindi la centralità del cibo è abbastanza evidente una politologa britannica Carony Steele dice scrive nel mondo industrializzato tendiamo ad assegnare ben poco valore al cibo pagarlo il meno possibile eccetera ma molte delle sfide più grandi il cambiamento climatico l'estinzione di massa la deforestazione l'erosione l'esaurimento idrico l'inquinamento eccetera eccetera derivano proprio dalla nostra incapacità di assegnare il giusto valore al cibo di cui ci nutriamo assegnando nuovamente valore al cibo potremmo usarlo come una forza positiva per affrontare minacce e invertire i problemi che ci affliggono io credo molto in questo faccio di questo il mio lavoro principale il cibo oggi torna in qualche modo in primo piano attraverso il discorso della guerra e io sono abbastanza attento all'uso che si fa delle parole perché credo che le parole servano anche a mistificare e insomma questa cosa della guerra del cibo come viene scritta sui giornali non mi trova d'accordo la guerra del cibo è qualcosa che non mi piace ovviamente ma si parla della guerra del cibo si parla dell'effetto magari in termini di prezzi ma non si parla mai di quali sono le cause e soprattutto quello che mi colpisce sono le soluzioni è già stato citato il discorso dei novel food la carne in laboratorio le proteine che derivano dagli insetti che chiaramente eliminano tra virgolette il ruolo del produttore agricolo e industrializzano industrializzerebbero tutta la produzione di cibo ieri usciva una notizia in questi giorni alcuni erano molto contenti del fatto che la commissione europea ha detto si potete coltivare 200.000 ettari in più in Italia per fare pronta alla produzione agricola come se questo fosse la soluzione poi dobbiamo vedere questo visto che a livello europeo siamo più o meno autosufficienti di cibo se coltiviamo 200.000 ettari in più dovremmo forse poi destinare quella produzione dove veramente avviene la crisi alimentare la cosa più divertente che ho sentito è la caccia sostenibile la carne inquina l'unico modo per poter mangiare carne in maniera sostenibile è la caccia questo ovviamente è un po' e si parlava prima di competenze a me fa un po' sorridere poi non più di tanto per la verità il fatto che un po' come è venuto con la pandemia dove in televisione andavano chiunque a parlare di qualunque cosa vengono invitati scrivono articoli trasmissioni radiofoniche esperti di politiche del cibo esperti su quali basi non si sa non ho sentito una volta citare una cosa banale che qualsiasi manuale di politica agricola che noi studenti di agraria io sono un agronomo abbiamo utilizzato nella nostra carriera sappiamo le politiche dei buffer stock sarebbe una politica che tende che dovrebbe essere proprio utilizzata per calmirare le crisi alimentari e le crisi dei prezzi non la conosce nessuno no il problema è che anche qui diciamo il tema diventa di moda e allora si diciamo diventa di dominio di altri e proprio sul fronte delle soluzioni voglio leggervi un piccolo brano di quello che è stato le osservazioni che la commissione europea ha fatto sul piano strategico nazionale della pacca italiana scrive la commissione europea l'attuale impennata generalizzata dei prezzi dei prodotti di base pongono in primo piano con la massima evidenza il legame essenziale tra l'azione per il clima e la sicurezza alimentare in tale contesto salto un poco per sfruttare tutte le opportunità di rafforzare la resilienza del settore agricolo dell'unione europea ridurre la dipendenza dei fertilizzanti di sintesi e aumentare la produzione di energia rinnovabile senza compromettere la produzione alimentare ovvero sia il problema alimentare la crisi alimentare c'è però non possiamo risolverlo eliminando l'idea della transizione ecologica e dicendo dobbiamo produrre di più abbiamo bisogno di più terra per produrre dobbiamo quindi produrre nel solito modo ma dovremmo veramente cambiare il modo di produrre e questo lo dice la commissione europea non è che lo dice lo stiamo dicendo in questo in questo tavolo allora chiudo per stare nei miei dieci minuti dicendo che la soluzione dal mio punto di vista sono le politiche del cibo in chiave agroecologica allora facendo prendendo come riferimento i cinque punti di di Wisman che è uno dei più grandi studiosi di agroecologia non cito i primi quattro ma cito il quinto costruire un nuovo sistema alimentare locale basato su equità partecipazione democrazia e giustizia allora le food policy le politiche del cibo che si sono diffuse a livello mondiale si stanno diffondendo anche in Italia dovrebbero avere questo obiettivo punto lo fanno? non lo sappiamo lo sapremo dobbiamo tenere gli occhi aperti dobbiamo monitorare questi processi noi come rete italiana politiche locali del cibo abbiamo lanciato un osservatorio per monitorare questi processi proprio perché crediamo che possono essere centrali ma per esserlo devono essere veritieri chiudo veramente sono ancora nell'ambito dei miei dieci minuti segnando un'iniziativa che non come rete ma a livello diciamo romano quindi città metropolitana di Roma stiamo portando avanti ovvero un osservatorio sulla sicurezza o meglio sulla insicurezza alimentare lanciato quando ancora non c'era la guerra russo-ucraina quindi non è stata un'operazione diciamo tre corrette di marketing l'abbiamo pensato prima siamo in fase sperimentale stiamo lavorando sull'accessibilità al cibo un tema a un cibo sano giusto quanto è accessibile abbiamo elaborato un indicatore l'abbiamo territorializzato abbiamo visto dove questo fenomeno questa possibilità di accedere ad un cibo sano non c'è stiamo elaborando anche la scala di insicurezza alimentare che viene usata a livello mondiale stiamo monitorando anche i consumi delle famiglie per capire anche chi si può permettere un cibo sano e quali sono le relazioni con i problemi sanitari nutrizionali delle famiglie stesse chiudo 10 minuti 0,2 secondi grazie perfetto grazie 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 professore grazie per questo ruolo di vigilanza peraltro Navdania fa parte di questo tavolo di coordinamento che trovo essenziale perché possiamo avere le migliori visioni possiamo avere le migliori idee ma poi dobbiamo dobbiamo agire quindi il ruolo che rivestite è fondamentale anche in questo caso rinnovo diciamo l'impegno che Unione Buddista ha anche in questo senso e di sostegno anche del tavolo io ho anche nominato le imprese e quando si parla di un certo tipo di impresa a me il pensiero va subito a Lucio Cavazzoni che per me è un pioniere se non sbaglio Lucio inizia come apicoltore per poi diventare prima amministratore delegato tante cose tante vite in una sola per diventare amministratore delegato e poi presidente di Alcenero e oggi presidente di Goodland alcuni dei prodotti li trovate anche in questo caso c'è una visione che non è solamente quella della faccio il biologico che vediamo anche in tanti contesti in tanti supermercati in tante catene di distribuzione ma è anche il come lo faccio e quindi anche tutta una politica di no caporadato per me Lucio Cavazzoni è la persona che è capace di trasformare il cibo in azione quindi lo ringrazio in un'azione di cambiamento vero e proprio quindi lo ringrazio moltissimo per essere qui Lucio a te la parola grazie a voi grazie molto anche per la presentazione dunque il vostro titolo è un titolo intelligente centrato non scontato perché unisce l'ecologia profonda e giustamente la definita profonda per non per non banalizzarla all'agricoltura la cosa non è scontata perché fino a ieri sono state due cose completamente separate diverse in realtà sono la stessa cosa agricoltura e ambiente sono la stessa cosa e questo significa moltissimo nella prima parte l'intervento di Rosa molto toccante c'è tutta la sofferenza quindi probabilmente l'hai vissuta attraverso i tuoi genitori i tuoi vicini c'è tutta la sofferenza di un mondo contadino che viene in tutto il mondo e adesso in questi ultimi anni velocissimamente cacciato dalla terra e dalle possibilità di vivere sulla terra perché è obbligato a competere guardate nella idea contadina la competizione non c'è non c'è la competizione c'è il grande tema l'obiettivo nella capacità nel mestiere contadino l'obiettivo è l'equilibrio e non è un caso che equilibrio ed equità abbiano lo stesso etimo e non è un caso che abbiano lo stesso etimo e invece questa cosa che sta accadendo in maniera molto consistente e molto forte nella seconda parte dell'intervento di Rosa tanto per dare due numeri numeri che vengono da questa regione dalla intelligenza e della ricerca di questa regione di questa città in particolare da Marco Mizzolo sociologo che denuncia da molti decenni la presenza quasi schiavizzata di 40.000 lavoratori del Punjab qui fissi residenti fissi 40.000 ma poi anche l'università sapienza professor Carchedi un gigante della sapienza di Roma che denuncia che prepara una pubblicazione per conto della CGL nazionale sul fenomeno quantitativo e qualitativo dei lavoratori migranti schiavizzati nel nostro paese questi sono 400.000 probabilmente non so tu Rosa sei agricoltrice o no fai parte del mondo diciamo di sì bene ora siamo probabilmente 1.200.000 nel nostro paese quelli che riportavi poco fa tu i lavoratori complessivamente dell'agroalimentare 400.000 sono senza contratto un terzo questi sono dati della sapienza di Roma che ormai sono diventati dati ufficiali di questi 400.000 di qualche anno fa no no adesso sono no 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 di nuovo anzi è peggiorata la situazione di questi 400.000 200.000 una condizione di schiavitù il dato europeo sono 1.150.000 con la Spagna che è messa molto peggio di noi con la Spagna che è messa molto peggio di noi dal punto di vista della della di una situazione assolutamente insopportabile da parte di lavoratrici femminile marocchine per la raccolta delle fragole ecco il grande responsabile di tutto questo alla fine è uno è il nord Europa perché è il nord Europa che vuole pagare poco le materie agricole di cui si si ciba quindi questo è dentro a questo tema così dentro a questo mondo che sta accelerando in questa maniera così negativa pesantemente negativa due cose importanti la prima tre cose importanti la prima il contadino non fa solo cibo non cadiamo nell'idea che l'agricoltore fa solamente il cibo in realtà il primo oggi grande plus valore che il contadino fa è la costruzione e custodia custodia e costruzione del paesaggio il paesaggio non è il territorio il territorio è il territorio il paesaggio è il territorio dove l'uomo è intervenuto e continua a intervenire attraverso tutte le sue forme la sua bellezza o il suo degrado credo che noi abbiamo molto presente entrambi per esempio Rosa poco fa parlava del degrado dei ghetti nel nostro paese che sono censiti ufficialmente 18 e probabilmente contengono più di 100.000 persone quindi una cosa scandalosa a cielo aperto che non si può immaginare quelle sono le forme di degrado ma il primo mestiere del contadino è involontario e non riconosciuto e frustrato dalle politiche della PAC è il paesaggio è la conservazione e la conservazione del paesaggio che è un bene di tutti perché dentro il paesaggio c'è la bellezza c'è la possibilità di costruire che cosa perché qual è il vero elemento importante nel cibo è la relazione è la relazione fra la persona la terra quello che si mette dentro quello che ne fa parte con gli animali è per quello che tutta l'agricoltura industriale oggi e poi dopo bisogna che andiamo a definire che cosa vuol dire agricoltura industriale l'agricoltura industriale significa un proprietario terriero che gestisce un appezzamento di 10.000 ettari corpo unico con una sola monocultura 20.000 ettari 30.000 ettari con una sola monocultura io ho sorvolato alcuni anni fa un'area del Mato Grosso dove ho visto dall'alto poi mi sono informato sono fuori tempo un territorio di soia transgenica grande come la regione Umbra un unico campo grande come la regione Umbria ecco questa è l'agricoltura industriale l'agricoltura industriale è quella che dice che oggi gli allevamenti migliori sono quelli che vengono fatti con la soia e il mais che provengono dalla deforestazione brasiliana di cui parlava il professor poco fa Martino poco fa e vengono nutriti al 75% con questi due prodotti alla faccia del chilometro zero in stalle di 1.000 2.000 3.000 124.000 capi è il campione massimo in Cina una stalla una serie di stalle nello stesso ambiente di 120 infatti non vengono più chiamati animali 124.000 capi questo è il tipo di agricoltura che produce un cibo si è stato detto poco fa senza contadini non servono più i contadini di sicuro non servono più ma di sicuro la mancanza dell'uomo rompe ogni possibilità di relazione alla fine con la terra con il cibo con il paesaggio con tutto il resto quindi noi che cosa diventiamo che cos'è il cibo che noi mangiamo per concludere noi dobbiamo seriamente e io inviterei tutti a ragionare fortemente su questa idea su questo smettere di parlare di cibo e di un'agricoltura ci sono almeno due cibi e almeno due agricolture e non parlo di cibo biologico e non biologico vado molto oltre faccio biologico da 45 anni non l'ho ancora pronunciato e non lo pronuncio non parlo di questo sto parlando proprio di un cibo e di un'agricoltura che è un'agricoltura che vuole continuare ad essere e pretende continuare ad essere industrializzata vedi territorio di cui parlavi tu poco fa della Capitanata la mia preoccupazione più grossa è che possa diventare come le produzioni di pomodoro del Parmense o della mia regione o della regione da cui provengo dove gli agricoltori sono assolutamente soddisfatti di ricevere 9 centesimi al chilo di pomodoro che è quello che frustra il prezzo del sud Italia uno si chiede ma 9 centesimi al chilo è niente in effetti è niente se non fosse che la produttività media di un ettaro di pomodoro nel Parmense sono mille quintali quindi mentre un ettaro di grano da 1500 euro e vivi solo attraverso le provvidenze comunitarie un ettaro di pomodoro fate i conti di quanto da da una cifra immensamente superiore ma cosa vuol dire una terra che produce mille quintali ad ettaro di pomodoro che è la media produttiva del pomodoro che si produce nel nord Italia nel nostro paese l'Emilia Romagna produce il 70% del pomodoro d'Italia adesso questo per darvi un'idea complessiva allora qual è il primo risultato di questo pomodoro non ci sono più gli agricoltori perché il pomodoro viene coltivato con grandissime macchine diserbato con lo stesso sistema e raccolto con macchine che devono essere molto grandi su territori molto grandi come si vuole ridurre la capitanata dove ancora c'è comunque un frazionamento della terra contadina di 7 ettari e mezzo e quindi c'è ancora una presenza agricola contadina nei prossimi 15 anni scompare scompare il rischio di scompare di fronte a tutta questa pressione quindi finisco due agricolture pensiamo e siamo consapevoli che ci sono due agricolture e che ci sono due cibi almeno due cibi completamente diversi che nutrono e che provengono da due storie completamente diversi infine e questo è un invito non a questo tavolo ma mi ricollego all'adventico a quanto diceva poco fa l'adventico basta con lo storytelling cioè qui siamo pieni di storytelling da tutte le parti ormai non c'è più nessuno che non riporti che il mondo si sta diventando sempre più povero sempre più ricco gli altri ormai sono consuetudini queste noi dobbiamo passare dallo storytelling allo story making ecco io credo che la differenza sostanziale sia quella di fare azioni di agire passare dallo storytelling allo story making grazie grazie infinite Lucio Cavazzoni penso che qui ci sia proprio il seme della nostra azione comune dell'alleanza che stiamo costruendo insieme prima di dare la parola a Vanda Nasciva è grazie a Francescato dunque tutti la conosciamo come già leader del WWF portavoce dei verdi europei per chi si occupa di ecologia da decenni io me ne occupo da 25 anni un punto di riferimento inevitabilmente con grazie a Francescato ci troviamo spesso a parlare anche di sacralità perché ovviamente abbiamo parlato di ecologia profonda di interessere di interdipendenza quello che ci muove oggi è proprio il riconoscimento della sacralità del vivente di qualsiasi vivente io trovo grande nutrimento dalle conversazioni che ho con Grazia che Grazia era a Stoccolma 50 anni fa e proprio in questi giorni si celebra non ho i 50 anni di Stoccolma i 30 anni di Rio secondo me non se ne parla abbastanza secondo me si fanno un sacco di festival nel solco del greenwashing ma si parla pochissimo di quelle pietre miliari che sono state Stoccolma nel bene e nel male cioè voglio dire perfettibili Stoccolma e Rio se non ricordo male Rio ha una dichiarazione con dei principi che secondo me sono ancora validissimi primo principio di precauzione che peraltro essendo reiterato nel tempo diventa da un punto di vista anche giurisprudenziale diritto cogente principio delle responsabilità comuni ma differenziate polluter pace principle cioè una dichiarazione di una potenza nel 92 importante e ricordiamo che a Rio nel 92 sono state anche firmate tre convenzioni la convenzione quadro sul clima la convenzione sulla diversità biologica e la convenzione poco ricordata ma importantissima che è quella sulla lotta la desertificazione la siccità della desertificazione qui nessuno se la fila ma è così è una convenzione è poco conosciuta estremamente importante ora tu sei stata protagonista a Stoccolma sei stata protagonista a Rio che cosa ci siamo persi grazie allora i latini dicevano nome nome nel nome c'è il destino mi chiamo grazia e ringrazio non una ma due volte la prima perché avete messo in primo piano il fattore T il fattore tempo che è cruciale oggi su cui tornerò la seconda perché mi permettete di dire perché sono qui io sono qui avevo proprio scritto per prima cosa perché credo nella sacralità di madre terra forse ci ho creduto fin da piccola anch'io ho 75 anni la mia generazione eravamo tutti figli o nipoti di contadini mio papà era il primo di 14 figli di contadini veneti andato a lavorare nei campi a 7 anni perché li facevano apposta servevano le braccia per l'agricoltura però poi questo l'ho riscoperto quando ero giornalista di Airone forse qualcuno di voi si ricorda questa rivista bellissima di viaggi di natura che mi mandava in giro per il mondo arrivo in Amazzonia nel 1989 prima conferenza dei popoli indigeni del fiume Gingu c'era anche Sting c'era tutta una Kermess e lì ho scoperto la cosmovisione indigena ho imparato tantissimo permettetemi solo un brevissimo ho imparato ovviamente che la difesa della foresta non poteva essere portata avanti senza difendere e mettere in primo piano i diritti dei popoli indigeni e rurali questo è ovvio ho imparato anche un'altra cosa da un piccolo episodio che dico velocissimamente c'erano tantissimi giornalisti lì c'era una marea di cameraman e quindi entravano nelle cappane degli indigeni facevano le foto io ero un po' imbarazzata e con il mio toquino in mano stavo per intervistare questo Paolino Paiacan che era il capo degli indigeni Kayapo in quel momento e quando sono arrivata davanti a lui lui era un po' scocciato da tutti questi giornalisti e tutte queste domande e mi punta il dito contro questa parete di macchine fotografiche di camera e so forth e mi dice ma voi perché cosa siete venuti a fare qui? ma dico io noi siamo venuti a imparare a sapere cosa succede così con la conoscenza le persone potranno essere rese consapevoli di quello che accade nella foresta e si potranno mobilitare lui scrolla la testa si toglie dalla testa la coroncina di penne di ara di penne colorate che aveva messo immagino soprattutto per la gioia dei cameraman e mi dice non è questa la conoscenza ah dico allora qual è? lui mi dice una parola nella sua lingua che mi viene tradotta poi della mia amica che parlava un po' la loro e mi dice conoscenza è un sentiero che ha un cuore a me è caduto mi è caduto il padronino della mano e ho capito lì e poi l'hanno fatta capire molto bene loro che cosa intendevo dire perché guardate e questo ha a che fare anche con Vandana Shiva se voi vi chiedeste dopo 50 anni di ambientalismo qual è l'ecosistema più a rischio sì io vi direi la foresta amazzonica adesso c'è Bolsonaro vi direi i ghiacciai che si sciolgono tutto quello che volete ma in realtà io penso che il sistema più a rischio sia questo la mente umana e soprattutto il rapporto mente cuore la capacità di mettere insieme cuore e cervello ragione e sentimento ed è per questo motivo che io apprezzo Vandana Shiva poi parlerò anche di tutto il resto ma perché lei è un'intelligenza calda e noi in questo inquietante inizio di terzo millennio abbiamo bisogno di intelligenze calde capaci di mettere insieme cuore e cervello ragione e sentimenti allora ovviamente io ho cominciato subito a militare tornata dalle mie puntate in Amazzonia mi hanno mandato una decina di volte erano goduri a farlo giornalista all'epoca perché non stavi dietro a un computer ti mandavano in giro per il mondo e ho insieme un personaggio abbastanza strano e centrico che era il principe Filippo di Edimburgo che era presidente del WWF internazionale quando io ero presidente del WWF Italia ho seguito molto le vicende di ARC Alliance Religions and Conservation che era stata fondata proprio da lui nel 95 e che ha portato avanti 2000 progetti con tutte le religioni del mondo e qui io credo che si debbano guardare la pancia delle parole d'antica giornalista religione viene da religare unisco una cosa all'altra tu sottieni che è la prima regola dell'ecologia e adesso veniamo a un altro punto cruciale che ho detto prima che è il fattore tempo è vero io ero a Stoccolma giovanissima giornalista di 24 anni quindi potete fare il calcolo e pensavo che in pochissimo tempo ero pressocratica pensavo appena la gente saprà che cosa succede immediatamente si mobiliterà nell'epoca sul tavolo c'era soprattutto l'incremento demografico e le fazioni erano due i neomaltusiani che erano condotti da Paul Ehrlich e gli antimaltusiani che avevano a capo uno dei rarissimi scienziati ed esperti comunisti degli Stati Uniti che era Barry Comoner l'autore del famoso cerchio da chiudere bene la faccio breve qual è la tragedia la tragedia che tutto era già sul tavolo l'intreccio della crisi ambientale della crisi sociale della crisi economica c'era già tutto lì con 109 dichiarazioni di 113 paesi quello che la nostra Greta direbbe bla 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 dell'epoca ben poco è stato fatto c'è stato sì il momento della speranza a Rio nel 92 quando poi c'erano anche due formidabili donne che voglio ricordare oltre a Mandana Vangari Matai che ricorderete tutti che è nota che è stata sì veramente grande Vangari Nobel ma è stato un grande momento di speranza perché sembrava che almeno a parole tutti fossero d'accordo che occorreva camminare lungo la strada dello sviluppo sostenibile che noi sappiamo che è uno simoro una contraddizione in termini ma andava anche bene allora se questa sostenibilità fosse stata tradotta in policies autentiche e invece no e vi dico vi cito solo due perché sono più in tema del grande appuntamento internazionale a cui sono andata più tardi uno Seattle 1999 VTO dove abbiamo fermato in qualche modo dove il VTO io all'epoca ero presidente dei Verdi Italiani ero l'unica donna in più verde le avevo tutte dentro la coalizione dell'Ulivo e mentre i miei colleghi si occupavano della tattica cioè di fare alleanze perché c'era non mi ricordo più quale quale l'elezione io sono andata a Seattle e lì ho toccato con mano che adesso vi leggo un pezzettino di un libro che ha scritto Giuseppe De Marzo Francesco Martone Fabrizia Pratesi la sottoscritta che si chiamano Global da Seattle a Porta Alegre di che cosa è stata veramente lì questo è stato il movimento dei movimenti qualcuno l'ha chiamato il popolo di Seattle perché c'era la convergenza di tutti i messaggi c'era un'alleanza cruciale e inedita tra paladini dell'ambiente difensori dei diritti umani e sostenitori delle istanze dei lavoratori dei cittadini ancora una volta c'era tutto e la cosa interessante era che per la prima volta nella storia questa grande alleanza è stata intessuta prima sul web quindi la piazza virtuale l'agora virtuale e poi si è materializzata si è mostrata al mondo nella piazza vera quella reale quindi anche nel conflitto corpo a corpo io sono pacifista sia chiaro quindi però i conflitti quando si parla tanto della violenza delle minoranze bisogna poi parlare della violenza delle multinazionali che le hanno costrette ad andare in piazza piccola parentesi quindi lì è nato il cittadino globale cioè il cittadino che capisce il concetto di interdipendenza che è il primo concetto squisitamente ecologico quindi ogni cosa ci riguarda anche se avviene a mille miglia di distanza è il principio di responsabilità che poi passa nel concetto di cura come dirò dopo quindi un modello culturale nuovo a Seattle comincia a delinearsi l'identikit che noi speravamo fosse quella più ampia del cittadino del terzo millennio che tenta di dare risposte complesse a problemi complessi che si sforza di pensare globalmente e agire localmente come dice lo slogan forse più bello del movimento ambientalista poi arriviamo a Cancun 2003 anche lì c'ero e purtroppo ha assistito al suicidio di un contadino coreano dimenticato che vorrei invece ricordare qui che era lì che prima di morire ha scritto una lettera da pelle d'oca dove scrive lui si è ucciso proprio pugnalandosi la maniera del Karahirag asiatici quindi gli agricoltori sono trattati in modo non democratico con questa agricoltura questo dobbiamo fermarlo subito altrimenti la falsa logica del neoliberalismo spazzerà via la diversificazione dell'agricoltura globale e sarà disastrosa per l'essere umano 2003 ed è andato tutto avanti ancora peggio e allora adesso ispirandomi a Vandana Shiva e alla sua intelligenza calda noi abbiamo fatto tantissime battaglie contro lo sa bene Nicoletta tutti insieme contro l'OGM contro la biopirateria contro il saccheggio delle risorse sempre legandola alla difesa dei diritti umani dei diritti degli indigeni e delle persone che lavorano senza grande successo però facendo tutto sommato se guardiamo Nicoletta quello che abbiamo fatto in pochi tutto sommato moltissimo ecco io ho portato un libro che finalmente sono riuscito a farmi autografare da Vandana che si chiama Sopravvivere al mal sviluppo io però preferisco il bellissimo titolo in inglese che è Staying Alive Women Ecology and Survival in India suggerisco a Vandana di cambiare il titolo non è più solo in India Vandana adesso Staying Alive Everywhere la sopravvivenza sarà il nostro punto il nostro traguardo per tutti noi io ne ho parlato a Scandici ma ci dice un comune molto in gamba che chiede a ogni persona insomma a molte persone di parlare del libro della loro vita io ho parlato di questo libro perché anche come ecofeminista trovo formidabile che lei abbia saputo descrivere la forza delle donne cioè il fatto che è vero che sono vittime le prime vittime del cambiamento climatico del saccheggio delle risorse ma sono anche quelle che sanno trovare la soluzione e in questo ritorno alla cosmovisione indigena a questo sapere ancestrale che è stato gettato da parte come passe come qualcosa di non importante e che invece dovrà essere la fonte della nostra sapienza futura e vengo alla pandemia perché qui non abbiamo parlato la pandemia ci ha buttato in faccia l'interconnessione tra salute dell'ambiente e salute umana perché quel benedetto pipistrello non lo sapremo mai se è venuto fuori dal laboratorio degli scienziati o dal wet market orribile ma non doveva stare lì doveva stare nella sua grotta nella sua foresta perché sono le foreste il vero vaccino e conservare gli ecosistemi quello che dobbiamo fare poi vabbè se si trovano dei vaccini ma è una soluzione momentanea perché finché noi continueremo a distruggere gli ecosistemi a portare gli animali selvatici nelle vicinanze degli esseri umani è chiaro che ci saranno le condizioni perfette per lo spillover per il famoso salto di specie allora quello che bisogna capire mentre tutti invocano il ritorno alla normalità è proprio nella normalità che come un baco nella mela e l'ha dimostrato molto bene sia Nicoletta che tutti gli altri che hanno parlato è proprio lì che si insinuano tutti i problemi che ci hanno portati vicino al collasso quindi bisogna e ci sono sempre più persone che lo capiscono grazie a Dio capire non c'è più un prima a cui tornare c'è un dopo da inventare insieme questo dopo secondo molti di noi deve avere tre stelle polari che sono guardate valori al femminile quando dico al femminile non intendo affatto dire che gli uomini sono esclusi anzi noi speriamo vivamente che sempre più uomini abbraccino questi valori il primo è la cura la cura non a caso anche l'ultimo libro di Vandana noi dalla vedità alla cura che ha in sé due elementi la presa di responsabilità io mi prendo cura del gatto di casa della famiglia del territorio del pianeta ma la riscaldo la ravvivo con l'amore con l'empatia cuore e cervello ragione e sentimenti il secondo è l'interconnessione tu sottieni e il terzo mi viene quasi non lo voglio neanche dire che ormai è un mantra è la famosa sostenibilità che per essere autentica dovrebbe essere economica sociale ambientale tutte e tre ma che purtroppo viene declinata dalle stesse persone che ci hanno portato a uno sviluppo insostenibile come transizione ecologica mi rifiuto di utilizzare questo termine soprattutto perché in Italia con un ministro transumanista che fa la finzione ecologica scusatemi ma io voglio parlare di conversione ecologica come diceva Alex Langer che è stato quello di noi che ha volato più alto chiudo perché mi rimangono due minuti credo chiudo dicendo che sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto che hanno detto due persone prima di me uno che bisogna trasformare il cibo in azione di cambiamento secondo le politiche del cibo devono essere declinate in chiave agroecologica e che oggi l'unica cosa razionale è fare subito ciò che è possibile dobbiamo immediatamente lanciare un grande programma di rigenerazione dei suoli abbandonati specie se di proprietà pubblica per fare in modo che un domani possano essere immediatamente utilizzabili delle agricolture del futuro dobbiamo diffondere e sostenere anche tecnicamente e amministrativamente chi vuole cimentarsi nella produzione del cibo in chiave agroecologica dobbiamo sostenere e diffondere un tipo di formazione qui cito per esempio la cooperativa Coraggio non so quanti di voi la conoscono ma sono cose di questo tipo Baricamà che mira a avvicinare alla terra i giovani spiegandogli cosa significa fare agricoltura in ogni suo aspetto significa comunicare e diffondere nuove forme di comunità comunità del cibo basate sulla remunerazione dei fattori di produzione lavori in primis e sulla condivisione del rischio occorre anche elaborare nuovi sistemi logistici di prossimità per consentire alle piccole aziende agricole di valorizzare la loro produzione e di renderla accessibile alla popolazione tutta quindi dobbiamo passare appunto dal famoso dire al fare nel mio piccolo nel nostro piccolo stiamo cercando di farlo noi abbiamo lanciato insieme a Vincenzo Pitone che fa parte anche della food policy di Roma stiamo lavorando a un PNRR in una comunità spirituale che è quella dei ricostruttori di Prato perché io credo che le comunità spirituali resilienti siano un fattore di trasformazione fondamentale e stiamo ovviamente mettendo all'honneur come dicono i francesi l'orto biattivo di Andrea Batiata tutte queste forme di agroecologia che speriamo di poter poi trasformare in realtà chiudo qui perché vorrei dare però un orizzonte di speranza è vero che abbiamo perso tutto questo tempo un ritardo spaventoso di cui nessuno chiede scusa avete notato che nessuno chiede scusa nessuno si batte il petto esistono però i punti luce i punti luce sono le persone le organizzazioni le realtà che fanno bene le cose buone che costruiscono davvero conversione ecologica però quasi sempre questi punti luce non fanno costellazione non si conoscono non si mettono assieme non traducono le loro istanze in politica nel senso bello del termine facendo pressione anche su quella politica nel senso brutto del termine e quindi io penso io nel mio piccolo lo sto facendo io penso che il nostro scopo adesso il nostro lavoro è quello di aiutare i punti luce a fare costellazione per questo siamo qui grazie proprio così grazie siamo qui per fare costellazione tra l'altro hai citato delle persone che sono anche qui Francesco Martone che saluto c'è anche Rosa Francesco è un altro punto mio punto di riferimento un puntone di luce per realizzare ma anche Rosa insieme e poi Francesco appunto mi segnala che ci sono anche altri protagonisti in sala abbiamo un super pubblico di qualità c'è anche Giannoccio Giannoccio Puzzi dov'è? forse eccolo là eccolo là e poi vorrei anche segnalare che c'è forse fino a poco tempo fa c'era Daniela De Donno perché grazie a tu hai parlato di questa interconnessione con la pandemia e la perdita di biodiversità che forse dovremmo iniziare anche a parlare di perdita di vita riferendoci alla perdita di diversità di biodiversità Daniela De Donno fa parte del Jane Goodall Institute e nell'ultimo eccola qua eccola qua scusami ecco allora nell'ultimo magazine di buddismo che è dedicato ai sentient beings agli esseri sentienti c'è un articolo anche di Jane Goodall che parla esattamente di questo quindi appunto lo potete anche trovare nel nostro sito web di Unione Buddista Italiana il numero è quello tra l'altro con una copertina meravigliosa e lo potete o ordinare farlo avere a casa oppure lo potete scaricare gratuitamente ci sono degli articoli molto belli tra cui questo della dottoressa Jane Goodall quindi grazie Daniela per essere qui e per esatto e molto probabilmente avremo Jane Goodall con noi in Italia perché ci sono queste donne e uomini meravigliosi che ancora si donano con questa generosità a questa età che non si risparmiano per ispirarci quindi grazie 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 davvero passiamo la parola a Vandana Shiva che è la ragione per cui siamo tutti qui vabbè ovviamente scienziata ambientalista attivista indiana presidente di Navdania è inutile che legga tutta la storia di Vandana Shiva penso che penso che il titolo dell'ultimo libro racchiuda tutto quello che abbiamo detto finora dall'avidità alla cura ed è proprio la visione anche ieri abbiamo avuto questa conversazione e io sono tornata a casa con questo senso del fare del fare in maniera gioiosa dell'unire i punti insomma Vandana Shiva ci ha dato del lavoro da fare e lo faremo insieme doctor Vandana Shiva the floor is yours we can go on and on whatever you want by 25 ok thank you so much to the Buddhist association grazie a tutti per Ubi e tutte le associazioni che hanno organizzato questo incontro sono tornata in Italia dopo due anni a causa del covid e il lockdown e tutte le cose che dovevano mettere le nostre vite in pausa e l'evoluzione di tutti i pensieri e oltre a Rosa io avevo già incontrato tutti tutti quelli che hanno parlato oggi e non sono stata qui non ci siamo incontrati in questi due anni ma il pensiero si è evoluto nello stesso modo e questa è l'interconnettività tra tutti noi nella filosofia indiana diciamo tutto è vibrazione e quindi vengono fuori delle forme concrete ce lo dice anche la teoria quantistica tutto è onda e poi diventa particella ma l'idea meccanicistica ha spezzato tutto questo in materia inerte fissa atomi che non hanno interazione e questo mondo cartesiano meccanicistico naturalmente ha invaso l'agricoltura ha invaso il cibo e io non sarei dovuta entrare a lavorare nell'agricoltura ma nell'84 abbiamo avuto delle tragedie di genocidio molto molto serie nello stato del Punjab è stata introdotta la cosiddetta Green Revolution ed è entrata violenza guerra civile insomma veramente un disastro e la rivoluzione verde la Green Revolution ha ottenuto un premio Nobel ma non è stata creata pace è stato creato spargimento di sangue nella città di Bhopal ricordiamoci l'incidente dell'impianto di pesticidi della fabbrica di pesticidi e come ha potuto sopravvivere l'agricoltura in mezzo alla violenza della Green Revolution dell'84 e molti di questi di queste lezioni sono entrate nel mio libro Stayin Alive e quindi cosa dobbiamo imparare dobbiamo ricordarci cosa è la vita cosa è vivere e quali sono i processi che ci mantengono in vita perché siamo continuamente distratti dalla vita perché tutto è stato oggettivizzato tutto è inerte la terra è materia morta abbiamo ci siamo stati resi ciechi perché viviamo nei processi nella scienza e l'essere senzienti noi parliamo del fatto che la terra ha una famiglia vivente in India e che tutti gli esseri sono nostri parenti tutte le culture indigene parlano delle altre specie come parenti soltanto dopo il colonialismo e l'industrializzazione gli esseri sono stati ridotti a macchine se leggiamo Cartesio si dice che quando si taglia un animale l'animale sta urlando non prenderlo seriamente perché è soltanto uno scricchiolare di una macchina ci è voluto un secolo di strani strane persone Hob Boyle Cartesio che veramente ci mettessero in testa l'idea di una terra morta una terra che va schiafizzata è stata usata la parola proprio dell'omicidio della cultura e circa 4-500 anni fa c'è stato questo progetto di uccidere la conoscenza della vita quali sono stati gli eretici le persone la cui conoscenza era parte del fare del vivere e venivano dichiarate conoscenza effemminata Bacon ha scritto un libro il tempo della nascita della mascolinità l'oggettificazione il trattare la natura come la strega la strega che doveva essere torturata messa a ruogo per i segreti che manteneva e pensate a tutte le persone per esempio a Napoli le persone che sono state uccise per il loro pensiero sono state uccise 9 milioni di persone in Europa in quel periodo c'è voluta molta violenza per mettere a tacere la conoscenza del conoscere del vivere e ha anche spezzato la nostra associazione con le altre vite perché se noi perdiamo la nostra vita non possiamo vedere la vita negli altri come io comprendo il sistema alimentare dopo circa quattro decenni di pratica di riflessione il cibo è la valuta della vita il cibo è ciò che ci connette il cibo è ciò che connette oh non c'è più il poster ci sono io adesso no non voglio guardarmi il poster di questo evento la locandina era bellissima perché ci sono queste mani sporche di terra che tengono una pianta quello è il cibo quella è l'agricoltura l'agricoltura significa la cultura della terra la cultura di prendersi cura della terra e hai veramente ragione quando hai parlato Lucio del fatto che gli agricoltori non sono produttori gli agricoltori sono rigeneratori sono i guardiani della terra ed è l'unico lavoro che ci può connettere fisicamente ecologicamente se dovessi creare una sorta di indice dell'essere umano io direi ci deve essere la terra sotto le tue unghie se non hai la terra sotto le tue unghie se non hai messo le mani nella terra se non ti ricordi che sei terra Buddha c'è una bellissima postura del Buddha che si chiama Bumi Spash ha le sue mani così e parla della terra come testimone il testimone più importante di tutti Buddha era la terra vivente e tutto il pensiero della non violenza è basato sulla nostra relazione con gli altri esseri e quindi questa relazione dove ci connette con il cibo la terra ci dà il cibo e noi lo mangiamo quindi il cibo è la connessione tra gli esseri senzienti intorno a noi e l'essere senziente che sta dentro di noi perché noi come facciamo ad essere interesseri perché siamo un 90% altri esseri nel nostro corpo non siamo una macchina il cibo non è roba penso che l'illusione che il cibo sia roba e che la terra sia morta è il risultato di 50 anni di industrializzazione e di globalizzazione e adesso io ho compreso e non esito a dirlo che l'agricoltura industriale sta introducendo strumenti di guerra nell'agricoltura dove non dovrebbero essere e sta cambiando l'agricoltura in una guerra contro la terra contro le specie 80% delle specie sono scomparse dal pianeta nel 95 c'è stata la conferenza della FAO sulla genetica le risorse genetiche delle piante già allora si diceva che il 75% della diversità è andata perché a causa della cosiddetta moderna agricoltura che è l'agricoltura industriale basata sulle monoculture e sulle sostanze chimiche dopo di questo rivolta la globalizzazione la World Trade Organization quindi la globalizzazione e io non riesco a immaginare ricordatevi la pannocchia la pannocchia ci sono ci sono poi le foglie che tornano alla terra e dicono grazie vedete fanno così le foglie e dicono grazie alla terra le pannocchie sono bellissime nella mia valle l'altro giorno mi sono fermata per fare una foto perché avevamo questo gran turco ibrido dove sono tutti uguali le piantine la piantina è uguale all'altra hanno tutte la stessa altezza non hanno le foglie perché arrivano per essere raccolte dalle macchine ma noi non abbiamo macchine in India eppure avevamo queste pannocchie transgeniche e in Germania ho visto di nuovo queste pannocchie ma che cosa succede e poi hanno trovato me una scienziata agricola che poteva dire perché hanno le foglie che vanno verso l'alto perché è per aumentare la fotosintesi come se le foglie non fossero capaci di fare la fotosintesi da sole Caroline eri forse con noi questa parte dell'Italia meravigliosa che è diventata terra avvelenata dove non ci sono più meli non ci sono più alberi di mele ci sono così diciamo sembra un terreno di un cimitero perché ci sono delle radici e ci sono dei rami tenuti su dall'acciaio sembra una persona che sta all'ultimo stadio di covid col ventilatore hanno trasformato l'agricoltura in un ventilatore che tiene in vita delle piante tossiche e hanno perso la biodiversità le Alpi dove c'erano queste piante medicinali meravigliose non possono più crescere perché cosa hanno fatto delle serre di plastica io sono scioccata due anni dopo torno in Italia e vedo la plastica che si sta diffondendo nell'agricoltura italiana prima c'è il combustibile fossile come sostanza chimica adesso c'è il combustibile fossile come plastica e la liberazione da questo input industriale parte del nostro lavoro sulla rigenerazione dopo tutti questi anni abbiamo visto che ogni mito dell'agricoltura industriale globalizzata è un mito produce ancora più miti produce tossicità è questo che vogliamo più beni di consumo vuoti è questo che volete non hanno valore nutrizionale il valore nutrizionale è sceso del 78% nel cibo industriale queste misure scusate queste misurazioni adesso sono diffuse ovunque 14-15 16% della nostra nutrizione viene da questa varietà ma il terreno che nutre le piante ha tutto ciò che ci serve voi chiamate il cibo integrale no integrale integro è bellissima questa parola significa pieno e nel cibo industriale questo è smembrato è cibo spezzato è cibo che ha un'apparenza di cibo ma non è cibo quindi una grande sfida adesso nella rigenerazione nell'ecologia profonda in questo sistema globale industrializzato che non ha soltanto ridotto il cibo a un prodotto ha ridotto il cibo a un bene di consumo a roba e poi ci sono tutta una serie di processi di trattamenti abbiamo parlato dei pomodori che stavi descrivendo pomodori che sono cresciuti con amore ma in questo mercato globale la situazione è diversa ecco perché dobbiamo creare l'economia veritiera l'economia della non violenza e della verità questa è l'economia locale abbiamo visto quindi abbiamo misurato il fatto che dobbiamo continuare a ridare la terra con amore in queste misurazioni che abbiamo fatto in questi vent'anni c'è il 3.000% in più di funghi e questi funghi sono il segreto per la vita e per la rigenerazione della terra sappiamo che oggi fa caldissimo e anche noi in India stiamo avendo delle ondate di calore incredibili io ho lavorato con il mio team abbiamo detto lavoriamo com'è la temperatura com'è l'umidità perché gli alberi sono molto importanti per i campi sono importanti per l'agricoltura e cosa ha fatto l'agricoltura industriale ha tagliato gli alberi perché interferiscono con le macchine quindi abbiamo questi deserti verdi su ampia scala la differenza tra le siepi e il nostro terreno e il terreno chimico dei vicini la differenza di un terreno circondato da alberi la temperatura aveva 25% di differenza quindi abbiamo parlato degli olivi la desertificazione è un grande problema è parte dell'agricoltura senza cuore la desertificazione della terra la desertificazione della mente la desertificazione del cuore sono un'unica desertificazione e quindi ci fanno credere che le piante ricevono l'idratazione attraverso l'irrigazione ma nel terreno ci sono 160 litri di acqua per una unità di terreno e possiamo avere il 5% in più di idratazione solo grazie alle radici degli alberi e non sono soltanto radici sono un sistema di conservazione idrica sono un sistema di riduzione della temperatura e questa è la qualità di tutti gli esseri senzienti non siamo monodimensionali ecco perché non c'è un Buddha ma ci sono tutte queste divinità con tante mani perché tutti dobbiamo avere tante mani e non dobbiamo avere soltanto tante mani ma dobbiamo avere anche questa mente che va in diversità quindi dalla monocultura la diversità della mente abbiamo iniziato a coltivare dei semi per la biodiversità e continuiamo a trovare così tante altre cose che supportano la biodiversità se la tua agricoltura non vuole essere di genocidio deve essere un'agricoltura fatta con amore quindi nelle nostre aziende agricole abbiamo circa 1500 tipologie di riso e 250 tipologie di grano tutta una serie di legume non distruggiamo nessuna pianta perché non utilizziamo pesticidi in un metro quadrato ho contato 13 piante di cui 11 erano medicinali e 2 commestibili tutta questa ricchezza di biodiversità è sempre stata trattata come un nemico da sterminare questo è una minaccia all'alimentazione abbiamo sei volte più impollinatori che nella foresta quindi io questo lo chiamo il nuovo greenwashing cosa fanno? mettono la natura e l'uomo l'uno contro l'altro ripetendo questa vecchia idea colonialista che l'umano deve essere tolto dalla terra per proteggere la terra questa frase non potrebbe essere più violenta noi siamo parte della terra noi siamo membri della famiglia della terra noi sappiamo vivere in pace perché abbiamo vissuto in pace per la maggior parte della storia pace sulla terra questa è la cosmovisione degli indigeni continuare a dichiarare che l'uomo deve essere rimosso dalla terra per tra virgolette qualcosa di misteriosamente selvaggio deve sopravvivere non è così perché vogliono togliere gli agricoltori perché l'agricoltura industrializzata perché sono tutti pronti con queste monoculture con proteine carboidrati tutta la vita è basata sulle piante inizia con una foglia verde noi mangiamo le piante gli animali mangiano i vegetali quindi siamo tutti basati sui vegetali ha un significato o è qualcosa invece di aleatorio dire che la vegetazione è importante perché adesso cosa facciamo negli Stati Uniti va di moda questa cosa dell'alimentazione vegetale si mangia carne ma non si mangia solo carne si mangiano i vegetali si mangiano i legumi però purtroppo questa nuova dieta vegetariana è più agricoltura industriale più monoculture più tossicità perché per ingannare ancora di più le persone sull'alimentazione perché se l'alimentazione è vita se il cibo è vita se il cibo è nutrimento più torturiamo il cibo più creiamo emissioni a effetto serra più energia sprechiamo più rubiamo il cibo della sua qualità ieri Nadia era a Nadala con me siamo stata a una fiera del libro e ha parlato di come nel nome di risolvere il problema climatico e creare un bilanciamento sul carbonio hanno ordinato di uccidere pecore in Irlanda hanno ordinato di uccidere pecore in Irlanda ieri ho parlato di come ci sia questa errata concezione degli erbivori gli erbivori mangiano le erbe mangiano l'erba giusto hanno veramente una dieta ad altissimo livello nutrizionale ecco perché danno un latte di alta qualità adesso invece a questi animali si dà da mangiare si dà da mangiare mangime transgenico e non è questo ecco perché poi bisogna usare gli antibiotici nell'allevamento e tutti i rischi su cui lavora Nicoletta perché? perché stiamo forzando gli animali a mangiare cose che non dovrebbero mangiare noi lo sappiamo perché ci siamo stati forzati a mangiare cibo spazzatura perché è artificiale e costa poco io stamattina non ci potevo credere c'è stata una una riunione all'Unione Europea come ridurre il prezzo del cibo cellulare ma perché stiamo trattando il cibo cellulare che costa troppo vediamo un panino alla mozzarella ti costa 100 dollari a meno che non andranno a fornire dei sussidi e dar da mangiare alle popolazioni povere iniziano sempre da lì quindi cosa fanno? Riducono artificialmente il prezzo del cibo a un bene di consumo che costa poco e questo cibo che costa poco ha un costo elevatissimo sulla terra in termini di danno ecologico se pensiamo all'elaborazione di questo cibo la impronta di carbonio del cibo emette gas a effetto sarà per il 50% la conversione delle foreste per terreno per coltivazioni transgeniche continua ad aumentare e quindi ammonta a un totale del 50% ora il sistema che è parte del ciclo del quale fanno parte anche gli animali non è un sistema che riguarda solo le piante ogni ecosistema ha alberi perenni pianti e animali una buona agricoltura che funziona come la natura ed è l'agroecologia deve avere animali anche noi inclusi noi noi siamo animali e vedi questo cos'è questo bellissimo guardate questo guardate tutti vanno nel panico dov'è l'aria condizionata eccolo qua possiamo fare così tanti di voi stanno facendo così in India nei villaggi c'è il ventaglio il ventaglio a mano ce li siamo dimenticati siamo degli esseri meravigliosi di integrità con menti viventi con mani che possano lavorare con cuori pieni di compassione e non siamo questi esseri distrutti la compassione è stata distrutta con la caccia alle streghe la mente è stata distrutta con il pensiero meccanicistico l'industrializzazione e adesso alle mani viene detto non dovete prendervi cura della terra perché non siete parte della terra e di ogni cosa che abbiamo sbagliato negli ultimi 500 anni col colonialismo 50 anni di tossicismo 30 anni di globalizzazione stiamo cercando una soluzione di vendetta quindi questo greenwashing veramente mantiene in vita il sistema sbagliato questo è il greenwashing e dobbiamo invece tornare al vero green al vero verde quello che è il colore della vita quello che è il colore delle piante delle foglie ecco perché oggi vedo il contesto del sistema industriale il sistema ecologico e vedo che è un contesto tra la mancanza di verità la violenza la guerra contro la terra e tutti gli esseri e non violenza e giustizia dall'altra parte e tutto questo è incarnato dal cibo tutti mangiamo non possiamo fuggire da questa cosa mangiare è parte di essere in vita mangiare è ciò che ci dà il nutrimento è ciò che ci dà la salute ma è un cibo salutare e quindi far crescere del cibo che rigeneri la terra perché possiamo mangiare del cibo che è rigenerativo per noi stessi e per la terra questa è l'agricoltura rigenerativa in India diciamo tutto è cibo e tutto è qualcos'altro dal cibo quindi dal cibo non possiamo fuggire non possiamo fuggire dal ciclo dell'alimentazione dalla catena alimentare tutte le volte che ci siamo scappati dalla colonizzazione fino a Elon Musk e al signor Amazon che sono andati a Marte e dire a me non interessa della terra e dire a me non interessa di casa mia i colonizzatori se ne sono andati e hanno detto dobbiamo scappare dalla miseria dell'Europa andare a prenderci le ricchezze di quelle terre a prenderci i lavoratori gratis qual è la radice della schiavitù ecco perché esseri autonomi sono stati cambiati in schiavi per l'impero colonialista voglio concludere con un piccolo suggerimento che è nato in questi ultimi due o tre giorni quando abbiamo parlato delle pecore che venivano a uccide e tu hai parlato dei bufali che vengono messi nei campi di concentramento nell'area di Napoli questa è la proposta che i bufali che vanno liberi nei campi sono un pericolo per la nostra salute pensate alle bugie che vengono utilizzate per chiudere ogni autonomia indipendente del nostro sistema agricolo e come ho sempre detto questa economia dell'avidità viene da un'insicurezza molto profonda la violenza contro le donne la violenza contro gli animali la violenza contro le pecore viene dal non essere in grado di affrontare un altro essere che è vivo e libero la non violenza è dire io sono vivo tu sei vivo dobbiamo fare una co-creazione non violenta è un meraviglioso dialogo questa è la vita quindi questa guerra contro la terra è radicata nella paura della vita e trascende questa paura che viene cambiata in amore in compassione questo è quello che hanno detto tutti gli speaker di oggi Navdania per gli ultimi vent'anni negli ultimi vent'anni io mi ricordo che abbiamo iniziato esattamente in questa sala abbiamo iniziato la Global Seed Freedom Campaign la campagna per i semi liberi nell'anniversario della nascita di Gandhi il giorno del dire no alla violenza alla mancanza di verità Satya Agra quindi Satya Verità Agra è la passione per la verità questo è quello che ha fatto Gandhi per tutta la sua vita abbiamo iniziato questo movimento da questa sala quindi adesso oggi tutti i gruppi che sono qui diciamo che quest'anno il 2 di ottobre rilanceremo una nuova campagna di due settimane nel World Food Day per richiamare la verità del cibo per riprenderci la verità del cibo perché tutto diventi una questione di giustizia di non utilizzare la schiavitù di ridurre l'impronta a carbonio la verità del nostro essere la verità dell'essere parte della terra e avere delle relazioni con quella non violenza e io stavo pensando perché l'associazione buddista porta insieme anche altre fedi nella mia mente stavo pensando sì c'è Gesù Gesù ha la pecora e in Irlanda stanno uccidendo le pecore non potete uccidere le pecore perché sono dei parenti di Dio oppure il nostro Dio Krishna lui è un guardiano di vacche lo vedete nella sua postura e per quello noi non possiamo uccidere le mucche per salvarle o amiamo gli animali quindi andiamo a ammazzarli e questo è un doppio è una doppia faccia e il Buddha anche il Buddha è sempre circondato di animali per cui dobbiamo qui creare immagini comunicazioni che vengano da tutte le religioni che tutti gli esseri sono uniti nella catena alimentare e che tutti i movimenti del sistema alimentare si prendano la mano e dicano giù le mani dai nostri parenti giù le mani dagli organismi della terra non ucciderete gli organismi della terra giù le mani dai nostri parenti piante non utilizzerete i glifosati e giù le mani dai bufali dalle vacche e dalle pecore non farete più finta di essere amanti degli animali e andare a commettere questi crimini è il tempo della verità è il tempo della gioia è il tempo di far sì che questi 10 miliardari che controllano il 50% della terra che hanno strane filosofie questo transumanismo queste macchine che pensano che siano superiori agli animali non possono uscire da questo complesso di superiorità in questo transumanismo non possono vivere non possono celebrare quindi è arrivato il momento dell'interessere dell'essere della verità della co-creazione della co-produzione e se continuiamo a costruire insieme non in uniformità ma in diversità così come abbiamo visto oggi ognuno di noi dovrà essere se stesso ma abbiamo una risonanza nel nostro pensiero costruiamo su questa risonanza grazie 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 mille dottoressa Shiva così tanta compassione in azione così tanta compassione in azione e anche in satia grazie mille davvero Stefano Bettera responsabile comunicazione dell'unione buddista italiana nonché vicepresidente dell'unione buddista europea trarà le conclusioni di questa bellissima bellissima giornata grazie grazie perché non è un compito facile non è un compito facile visto visto tutto ciò che è stato messo sul tavolo oggi ma soprattutto non lo è perché guardavo gli occhi di Vandana prima mentre parlava e al di là ovviamente del senso delle parole che è assolutamente condivisibile quello che mi ha colpito è sostanzialmente una cosa uno sguardo d'amore vero per l'altro cioè un sentimento che emerge da questo sguardo un sentimento che allo stesso tempo un sentimento di gioia ma è anche un sentimento di forza e di decisione cioè Vandana non è che ha risparmiato come dire punti di critica e anche come dire bordate da un certo punto di vista perché sostenere che la visione meccanicistica e l'invasione di questa visione meccanicistica industriale all'interno della nostra cultura della nostra società è un atto di guerra è una posizione forte è una posizione forte ed è la stessa posizione forte che mi ha fatto sorgere una domanda prima di questo convegno e durante che è questa perché in definitiva siamo qua oggi cioè perché l'unione buddista italiana in definitiva ha deciso di organizzare un momento di confronto come questo e allora mi sono venute sostanzialmente due risposte la prima è e lo dico da buddista cioè riguarda il fatto che la cura e l'interdipendenza sono qualcosa non solo di cui parliamo ma qualcosa che pratichiamo da 2500 anni ed è evidente che questa sia una posizione profondamente trasformativa è una posizione profondamente scomoda anche e quindi credo che uno dei motivi per cui noi siamo qui oggi e per cui dobbiamo convintamente continuare a essere parte di questa di questa rete sia quello di dire e fare cose scomode io credo che il compito di una confessione religiosa di qualunque parlo dei buddisti perché sono la mia confessione religiosa ma credo che sia un compito di chiunque sia quello di smetterla di essere compiacente di essere compiacente verso una visione del mondo che lo sta distruggendo come diceva Andana prima cioè di smetterla di essere compiacente verso un atto di guerra nei confronti dell'umanità e del mondo questa è la prima risposta che mi sono dato sul perché essere qui insieme a voi oggi la seconda risposta è una conseguenza della prima cioè quello che come buddisti e come confessione religiosa possiamo e anzi direi dobbiamo fare è costruire una cultura diversa cioè contribuire alla costruzione di una cultura diversa mi hanno colpito due cose che ho sentito stamattina Nicoletta diceva nel suo intervento di apertura dobbiamo smetterla con la retorica della semantica della responsabilità a cui aggiungo anche tutte queste altre meravigliose parole che hanno a che fare con l'alleanza la rete la partecipazione che sono tutte parole giustissime sono tutte parole anzi mi avrebbe da dire sacrosanti addirittura sacre da un certo punto di vista però è molto vero che su queste parole è stata costruita un linguaggio una retorica buonista una retorica della compassione che è ora che finisca francamente allora io credo che compito e dovere di una confessione religiosa nel momento in cui si organizzano momenti come questo è creare delle condizioni culturali per cui smetta questo colonialismo culturale della seduzione del pensiero minimo e anzi della seduzione del pensiero distruttivo allora io credo che questo sia esattamente il motivo per cui noi siamo qui oggi è molto bello che tanti di voi abbiano detto sono figlio nipote di contadini vengo io figuriamoci vengo da una terra che è l'Emilia che condivido con Lucio dove mia nonna era una contadina anzi era addirittura una mondina che si spostava dalla sua terra per andare in Piemonte a coltivare il riso quindi certamente non in condizioni di vita particolarmente facile io non credo che un contadino miei nonni compresi si ponga al problema della visione integrale del mondo cerca di attingere alle risorse interiori che ha per creare una condizione di vita migliore mi ha colpito moltissimo il vice sindaco che diceva parlava della cultura contadina come forma di solitudine ecco noi come confessione religiosa abbiamo una possibilità invertire questa cultura della solitudine cioè invertire questa cultura dell'isolamento invertire questa cultura della distruzione guardate non si tratta solo di agire non si tratta di semplicemente essere in campo noi non siamo una ONG collaboriamo con l'ONG collaboriamo con il mondo ambientalista collaboriamo con le organizzazioni ma possiamo indicare una prospettiva diversa il buddismo fondamentalmente è una cosa entrare nella corrente per andare contro corrente allora se ci ricordiamo questo ci rispondiamo alla domanda sul perché siamo qui oggi ieri con Banna dal tavolo si diceva si parlava del ruolo delle religioni e abbiamo concordato su una cosa sul fatto che le religioni devono avere una posizione forte ma non perché questo significa in qualche modo essere ortodossi o essere aggressivi rispetto ad altre culture religiose no noi abbiamo una verità tra virgolette da proporre insieme a tante altre verità possiamo costruire un pezzo di questo mondo complesso in cui stiamo vivendo ma soprattutto insieme a tutti questi soggetti costruire una cultura della vita diversa allora e chiudo quello che mi ha colpito dell'intervento di Vandana è un richiamo che vorrei fare mio e vorrei fare nostro e che credo che sia il richiamo che ha portato l'unione buddista italiana a realizzare questo momento un richiamo a vivere noi con gioia e decisione ma soprattutto a far vivere allora io credo che come unione buddista italiana e come confessione religiosa dobbiamo esattamente promuovere questo una cultura della vita che vada oltre la cultura seduttiva della morte che ci viene proposta costantemente di giorno in giorno è scomodo è forte è difficile è controcorrente sì ma non abbiamo altra possibilità di questa nel buddismo si parla del voto del bodhisattva il voto del bodhisattva è l'impegno che chi sceglie di fare questo cammino si prende di salvare qualunque essere vivente quindi animali inclusi benché questi siano infiniti allora è un voto folle perché gli esseri umani sono infiniti e quindi la follia di questo voto ci dice ma perché lo stai facendo lo sto facendo non perché è giusto lo sto facendo perché non ho altra possibilità che testimoniare questa condizione non ho altra possibilità che incontrare il volto delle altre persone e amarle ma amarle davvero e quindi salvarle credo che il compito nostro sia promuovere questa cultura della vita e quindi grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo incontro e grazie a voi grazie a tutti appuntamento ovviamente ad ottobre per la giornata mondiale dell'alimentazione e l'attivismo grazie 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 Grazie.